Bollette con aumenti da capogiro a doppia, in alcuni casi a tripla cifra. Questo è lo scenario attuale. Le realtà produttive che pagano il conto più salato sono le imprese energivore. Tra il 2019 e il 2022 i prezzi della produzione di gas e distribuzione di combustibili gassosi sono aumentati in media del 182,5%. Il dato shock è contenuto nella tabella Istat inserita nella nota sull'andamento dell'economia italiana a settembre. Per la produzione, trasmissione e distribuzione dell'elettricità i prezzi sono cresciuti nel periodo compreso fra il 2019 e il 2022 del 131,5%. Per la benzina il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilevato un aumento del 20%. Per il gasolio da riscaldamento l'incremento è stato del 36%. E cosa ci attende nei prossimi mesi? La simulazione realizzata in base ai microdati del sistema produttivo italiano del 2019 evidenzia che l'aumento dei costi di energia potrebbe con effetti differenziati nei settori rendere negativi i margini operativi dell'82% delle imprese attive che impiega circa il 20% degli addetti. Oltre all'energivore ci sono le tantissime piccole e medie imprese, autentica spina dorsale del sistema economico nazionale e locale, che si sono viste recapitare bollette salate, nei pubblici esercizi fino a 5 volte più alte rispetto a un anno fa. Le strutture ricettive, fondamentali per il settore turistico, già nel corso dell'estate avevano visto lievitare i costi energetici. Da un'indagine condotta dal Centro Studi di Federalberghi sono emersi aumenti monstra. Il costo medio per ogni struttura si aggira sui 120.000 euro annui, 94.000 per l'energia elettrica e 26.000 per il gas. Solo nel mese di luglio del 2022 le spese relative ai consumi energetici sono triplicate rispetto a luglio dell'anno precedente. Ecco alcuni esempi. Per quanto riguarda la bolletta elettrica, un hotel con 30 camere è passato da 4.000 euro del luglio 2021 ai 14.000 rilevati nel luglio scorso. Per il gas naturale, lo stesso albergo con 30 camere ha visto lievitare i costi da 520 a 1.200 euro, raffrontando sempre il mese di luglio 2021 con lo stesso periodo 2022. E l'inverno, salvo intesa a livello nazionale o europeo, sarà ancora più in salita.